Ciao a tutti ragazzi! In questo nuovo video andremo a vedere il funzionamento e alcuni esempi di lavorazione di una macchina di taglio laser quattro assi come questa. Ma ora sigla! Ma cosa può fare una macchina di taglio incisione laser? Questo è un esempio. Qui abbiamo sia un'incisione per quanto riguarda la scritta superiore e inferiore e anche per quanto riguarda il disegno su linea. Ma abbiamo anche un taglio sul profilo su uno spessore 20 mm. Abbiamo deciso di fare questo video perché queste macchine stanno diventando sempre più facilmente utilizzabili da tutti anche dal punto di vista dell'accessibilità economica. Tant'è vero che noi la stiamo utilizzando per rifare quelle che sono i cartelli di un sentiero del nostro paese. Ma che cos'è il laser e come fa ad essere in grado di incidere e tagliare il materiale? Praticamente il laser è un fascio luminoso in grado di concentrare una grandissima quantità di energia in un piccolissimo spazio. Per fare questo si avvale di una serie di specchi che concentrano il fascio luminoso in un focus o meglio in un fuoco che è il punto dove il taglio e l'incisione ha la maggiore efficienza. I metodi per creare un fascio di taglio laser sono il metodo a diodi, il metodo a CO2 quindi adenidride carbonica o il metodo fibra. Gli ultimi due che ho detto sono metodi utilizzati solo a livello industriale. Quelli utilizzati con le macchine come quella che vi abbiamo appena fatto vedere che possono essere utilizzate da tutti a casa propria sono macchine che funzionano a diodi. Ogni diodo ha una potenza di circa 5 o 6 watt in funzione del tipo di diodo. Quindi quando andiamo ad utilizzare macchine che hanno una potenza superiore come questa che ha 22 watt è perché stiamo utilizzando quattro diodi in parallelo che si concentrano tutti in un unico punto. Ma quali materiali possono essere tagliati o incisi con un laser? Per dare una risposta a questa domanda dobbiamo capire come fa il materiale a essere tagliato inciso. Il materiale viene tagliato inciso quando è in grado di assorbire quell'energia che il fascio laser emette. Mi spiego meglio. Prendiamo l'esempio di un materiale riflettente. Se io sparo una luce contro un materiale riflettente questo me la riflette indietro con la stessa intensità e con la stessa energia. Quindi vuol dire che quel materiale di energia non è assorbita. Quindi se io voglio tagliare una lamiera di acciaio inox a specchio non ce la faccio con un laser a diodi perché sto sparando un raggio di luce contro un qualcosa che mi riflette indietro la stessa energia. Quindi è più probabile che vado a danneggiare qualcosa che si trova sopra questo materiale riflettente perché ho riflesso il raggio laser. Quindi riesco a tagliare e incidere tutti quei materiali che invece sono in grado di assorbire l'energia. Quindi come i polimeri e il legno. Il fatto che io stia facendo un incisione o un taglio dipende semplicemente da quanta potenza sto utilizzando e a quant'è la velocità di avanzamento che sto utilizzando. Più vado veloce a bassa potenza meno penetro nel materiale. Più vado lento ad alta potenza più penetro nel materiale invece. Ma che prestazioni si riesce ad arrivare con questo laser da 22 watt? Se parliamo dell'altezza di taglio riusciamo a fare 15 mm di legno in una passata a massima potenza. In questo caso il legno è da 20 mm vuol dire che non può essere tagliato. No, al contrario. È semplicemente necessario fare più passate. In questo caso per tagliare un 20 mm sono necessarie due o tre passate all'85% di potenza perché ha una potenza un po' più bassa. Per evitare di sforzare la macchina al massimo ma anche per fare più passate e meno invasive. Quindi che scaldano meno. E poi per quanto riguarda le velocità di avanzamento la velocità di avanzamento massima è di 25.000 mm al minuto. Vuol dire 25 metri in un minuto lineari. Cosa ci serve una velocità molto alta? Avere una velocità molto alta ci consente di fare incisioni molto veloci perché se teniamo una velocità alta e una potenza alta riusciamo a incidere tanta superficie in pochissimo tempo. Più alta la velocità più si ridurranno i tempi necessari per eseguire il nostro lavoro. Ma come fanno le idee dalla nostra testa arrivare fino al pezzo finito. Il processo sembra un pochettino lungo ma adesso ve lo spiego in passaggi molto semplici. La prima cosa è la creazione di un file vettoriale. Il file vettoriale lo possiamo creare noi a nostro piacimento se vogliamo realizzare una cosa dedicata oppure può essere scaricato dal web se si tratta di un qualcosa che dobbiamo replicare. Ma cos'è un file vettoriale? Un file vettoriale come questo che vedete a schermo non è una semplice immagine è un insieme di linee che quindi hanno un'indicazione di lunghezza e direzione quindi il computer o meglio il programma cam che è quello che vedete aperto in questo momento è in grado di leggerle e sapere dove deve muovere la testina seguendo quella linea lì. Il programma cam prende l'informazione del file vettoriale e scrive delle righe di codice che sono praticamente come le istruzioni del navigatore che dicono alla testina del laser dove deve andare. Questa cosa non si utilizza solo nei laser si utilizza anche nelle stampanti 3d e anche nelle macchine a controllo numerico. Quello che vedete adesso è la riproduzione di quello che è l'anteprima del programma di taglio. Si sta facendo vedere con la scritta che man mano si colora dove va la testina nel momento in cui sta lavorando nelle varie fasi di lavoro quindi qual è il processo qual è la sequenza di operazioni che fa. Per riassumere in genere vengono fatte prima le incisioni ai tagli interni e per ultimo i tagli esterni. Questo per evitare che la sagoma interna possa muoversi se il taglio esterno è stato eseguito prima perché altrimenti non avrebbe più un riferimento. È una regola che vale in generale per tutti quelli che sono i processi di taglio a controllo numerico. Ma quindi chi è che ha fatto diventare molto più semplice l'utilizzo di queste macchine? È proprio il programma CAM perché quando prima vi ho detto che il file vettoriale viene mangiato dal programma CAM per scrivere le indicazioni stradali e quindi quello che viene chiamato G-Code che dà le indicazioni al laser di dove muoversi viene fatto in maniera completamente automatica. Difatti noi se vogliamo possiamo visualizzare il G-Code. Non ci serve saper scrivere noi le indicazioni, le scrive il programma CAM in automatico e le dà in passo al taglio laser. Quello che noi dobbiamo saper fare è semplicemente posizionare il pezzo sotto il taglio laser e regolare l'altezza della testina in base allo spessore del materiale che abbiamo messo da tagliare. Fatto questo dobbiamo regolare quelli che sono i parametri di velocità e potenza per avere il grado di incisione che vogliamo, ma queste sono cose nostre soggettive. Delle indicazioni di base per poter fare delle incisioni e dei tagli su diversi tipi di materiale ci vengono già fornite insieme alla macchina, poi però è bene in base al tipo specifico di materiale su cui stiamo lavorando perché il legno se stiamo tagliando un legno da bete o un legno di faggio non è assolutamente la stessa cosa, è bene farci noi delle piccole tabelline. Queste tabelline ci aiutano a avere una scala di velocità e potenza della nostra macchina che stiamo utilizzando per capire quanto stiamo andando a sforzare su quel materiale quindi quanto stiamo andando a incidere in profondità fino a tagliare questo materiale. Questa scala che vi faccio vedere adesso l'abbiamo realizzata noi con la nostra macchina sul compensato. In basso vedete le velocità di avanzamento 2000 mm al minuto fino a un massimo di 12.000 che abbiamo fatto su questa scala e le varie potenze che vanno dal 10 per cento al 100 per cento della potenza quindi è come dire 22 watt e 2,2 watt. Come vedete se andiamo molto piano a potenza massima stiamo penetrando nel compensato fino a quasi tagliarlo. Se ci spostiamo in diagonale all'esatto opposto quindi alla minima potenza e alla massima velocità quasi non incidiamo neanche il materiale. La stessa tabella che vi ho fatto vedere prima possiamo realizzarla su svariati tipi di materiale che sono di nostro interesse e materiali che è in grado di lavorare il laser. In questo caso vi sto facendo vedere legno, cartoncino, materiale spugnoso, cartoncino colorato e acciaio. Come vedete l'acciaio non è a specchio. In questo caso siamo in grado di fare incisioni o di fare tagli fino a 5 centesimi di spessore di taglio in una sola passata. Abbiamo scoperchiato la macchina per vedere bene come è fatta al suo interno e capire quali sono i componenti che la costituiscono. Per prima cosa diciamo che effettuare il montaggio è una cosa molto semplice in quanto il telaio arriva già assemblato. Dobbiamo semplicemente montare la testina e collegare il compressore che adesso vediamo anche a cosa servono. In ogni caso per il montaggio ci sono vabbè sia le istruzioni ma ci sono anche le video istruzioni che sono la cosa più semplice tant'è vero che l'abbiamo montato solo con quella. Ma veniamo a vedere come è fatta la macchina. La macchina si compone di un'intelaiatura principale che percorre tutto il contorno della macchina. Questa serve principalmente a guidare l'asse principale che appoggia sulle due guide laterali. Sono presenti sia due guide che forniscono la rigidità e la precisione dei movimenti ma se guardiamo anche in basso è presente la cinghia dentata. Questa cinghia dentata cosa fa? È quella che è azionata dal motore passo passo che in un colpo solo un motore centrale fa girare entrambe le pulegge su entrambi i lati degli assi. Questa cosa serve? Serve avere una guida molto precisa e sempre parallela perché se noi avessimo l'azionamento solo da un lato rischieremmo che l'asse può sballare, può non essere sempre rigido. Invece così è come se tiriamo un cassetto sempre dai suoi estremi. Il cassetto esce sempre perfettamente dritto. Poi abbiamo il secondo asse sul quale è montata effettivamente la testina laser. Queste gobbette che vedete qua sopra, la stessa è riprodotta anche nella parte sotto, serve a fungere da guida anche in questo caso per avere un movimento senza giochi. La movimentazione è data sempre da una cinghia che in questo caso non la vedete perché è nascosta sotto e azionata dal motore che vedete sempre passo 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 che vedete qua indicato dal mio dito. La combinazione di questi due assi che sono ortogonali tra di loro, quindi perpendicolari tra di loro, l'insieme dei movimenti X e Y ci consente di eseguire qualsiasi forma geometrica piana, quindi bidimensionale. Invece l'ultimo asse che potremmo chiamare il terzo asse è manuale. Manuale cosa vuol dire? Che possiamo regolare l'altezza della testina e fissarla con i grani in funzione dell'altezza del materiale che dobbiamo tagliare o incidere. Abbiamo questa piastrina che viene fornita in lo stazione che in base allo spessore del materiale che dobbiamo incidere o tagliare, ci fa regolare l'altezza corretta della testa laser. Appoggiamo, fissiamo e rimuoviamo. Così si trova la distanza perfetta dal materiale che dobbiamo tagliare o incidere senza mai andare in interferenza. La testina, come vi dicevo, è montata in una coda di rondine. Difatti è anche facilmente estraibile e sostituibile con un'altra testina anche di potenza diversa che è intercambiabile. Questa è la testina da 22 watt e può essere sostituita con la testina da 10 watt e da 33 watt in funzione di quelle che sono le esigenze con la stessa macchina, perché come avete capito il movimento che fa la testina è dato dall'azionamento dei motori ed è indipendente da quello che ci montiamo qua sopra. Quello che vedete qui è il compressore, è quello che viene chiamato air assist. Non è altro che un qualcosa di simile al compressore dell'auto, semplicemente di dimensioni più piccole e di portate più piccole. Questo è il cavo dell'alimentazione, ma non solo, e questo è il tubo di mandata dell'aria. Perché vi ho detto ma non solo? Perché oltre ad essere un compressore non è semplicemente acceso o spento. Questo compressore ha la possibilità di essere regolato sia manualmente, quindi dicendogli mandami l'aria al massimo o mandami l'aria al minimo, e adesso vediamo a cosa serve l'aria, ma è anche controllato dallo stesso programma CAM che in funzione della lavorazione che sta effettuando dà più o meno aria. Per sapere se abbiamo la giusta quantità di aria, oltre a vedere quello che è il risultato sul pezzo, abbiamo anche un indicatore sulla testina che in base ai sensori si rileva che l'aria non è sufficiente per la lavorazione che sta effettuando, alla velocità che sta effettuando, questa spia si illumina di arancione, mentre nel momento in cui è tutto ok la spia è illuminata di verde. Ma capiamo di base, di concetto a cosa serve l'aria in funzione che capiamo quando dobbiamo dargli o non dobbiamo dargli aria. L'aria ci tiene più fredda la zona che stiamo lavorando e la tiene anche ventilata. Se stiamo facendo un taglio profondo, quindi sto tagliando un legno da 15 mm in una passata, in quel caso l'aria la metterò al massimo perché devo tenere l'area più raffreddata possibile perché la superficie di taglio è tanta e sta scaldando tanto perché sto andando alla massima potenza a bassa velocità. Mentre vi faccio vedere una cosa sull'incisione. Questa è la medesima incisione a livello di potenza e di velocità cambiando solo l'aria. Qui con poca aria vedete che è molto più scura l'incisione, qui con tanta aria l'incisione è molto più chiara. Perché? Perché il materiale appena viene bruciato dal laser viene subito raffreddato quindi non si propaga, passatemi il termine, come una bruciatura. Ma praticamente viene bruciato e spento subito, non fa tempo a diventare nero mentre in questo caso è diventato più scuro e in questo caso è un pregio perché la scritta deve essere ben visibile. Ma in altri casi la bruciatura non è una bella cosa perché non la vogliamo far vedere, soprattutto su un taglio. Se il legno in questo bordo dove lo stiamo tagliando fosse diventato tutto nero sul bordo perché andava a scaldare anche la zona limitrofa al taglio, il taglio era molto brutto. Si può vedere leggermente su questo fianco dove il calore si è trasmesso alla parete. Perché? Perché l'aria viene soffiata da sopra e qui sul fianco riesce più difficilmente a raggiungere questa zona. Lo che avete visto fino adesso appoggiato al di sotto dei pezzi che abbiamo inciso e tagliato laser è il supporto a nido d'ape che spesso viene chiamato Oneicomb e quello inferiore è una lamiera di acciaio inox. A cosa servono questi due componenti? L'Oneicomb che come vedete è segnato e colorato è dove abbiamo effettuato dei tagli con laser e il laser è passato sotto oltre il legno che abbiamo tagliato. Il colore che viene lasciato sono le zone dove è passato il laser. Ma come vedete il materiale non è stato intaccato dal punto di vista strutturale. Difatti questa lamiera serve a supportare soprattutto quando si fanno tanti pezzi piccoli. Supponiamo che avessimo tagliato tanti piccoli oggettini. Se noi li andiamo a tagliare e sotto cadono nel vuoto questi possono poi essere rincisi dal laser che passa per andare a fare altre lavorazioni. Mentre qui rimangono supportati e non abbiamo nessuna interazione del laser con la superficie che c'è sotto perché il laser lavora molto bene alla distanza corretta dal pezzo che stiamo tagliando. Quindi se gli mettiamo uno spessore di nido d'ape di circa 20 mm la superficie che trova sotto poi è il piatto di acciaio inox. Qui quella piccola parte di raggio laser che arriva viene semplicemente riflesso ma non ha quasi più potere di tagliare niente. Quindi è uno strumento che non è indispensabile ma in molte occasioni agevola di molto il lavoro. Una cosa che ho trovato molto comoda che su altri laser non avevo trovato è il pannellino dei comandi. Il pannellino dei comandi non è sempre presente sui laser perché tutte queste cose che vedete rappresentate qui che sono la posizione di tornare a casa, quindi quella che viene chiamata la home del laser, la posizione 0, il riferimento 0 da cui partono le misurazioni, la possibilità di movimentare gli assi e la possibilità di disegnare quello che è il frame della lavorazione che stiamo facendo, quindi l'ingombro della lavorazione che stiamo facendo o il far partire la lavorazione. Spesso si possono fare solo da computer. Invece qui in una chiavetta è possibile collegarsi al posto del cavo di connessione con il pc? Se su questa chiavetta abbiamo salvato il programma, possiamo semplicemente andare a disegnare quello che è il frame del programma, verificare che il posizionamento del componente di legno che abbiamo posizionato o dell'altro materiale che dobbiamo tagliare sia corretto, a quel punto schiacciare play e far partire direttamente il programma tutto dalla macchina senza aver necessità di avere il computer sempre acceso e senza la necessità di avere il computer sempre da parte della macchina. Dato che il laser è già dotato di quella che è l'USB di tipo C, che sono quelle di ultima generazione, viene fornita anche la chiavetta standard e l'adattatore per poter connettere una chiavetta standard all'USB di tipo C. Se avete già una chiavetta USB di tipo C non è necessario l'adattatore. Oppure il programma può essere inserito direttamente su una scheda di memoria, direttamente nella macchina. Insomma abbiamo svariate possibilità, collegare il computer, collegare una presa USB, collegare una scheda di memoria, ce n'è un po' per tutti i gusti. La scocca che vedete nel video non è un elemento essenziale per tagliare, però diciamo che ci agevola molto la vita, perché il laser quando sta tagliando emette una gran quantità di fumi, perché alla fine taglia perché sta bruciando il materiale. Quindi questa cosa fa? Crea una camera che è messa in depressione da una ventola. La ventola la vediamo all'interno, manda in depressione questa camera e butta i fumi attraverso un tubo all'esterno, un po' come un condizionatore dove andiamo ad attaccare il tubo all'esterno dell'edificio in modo da mandare fuori i fumi del taglio. Se la gabbia non viene utilizzata è bene effettuare i tagli in un luogo assolutamente ben ventilato. Il montaggio della gabbia è estremamente semplice, difatti come vedete è costituita da una leggerissima struttura tubolari e lei ha già tutta la sua forma che va ad adagiarsi sopra i tubolari. Dal punto di vista del lavoro migliora nettamente quella che è l'esperienza di utilizzo del laser, perché se anche siamo in un ambiente chiuso e poco ventilato, mandiamo il tubo verso l'esterno e di fumi all'interno non ci rimane nulla. Quello che vedremo fra poco è il quarto asse, un optional che è veramente interessante per fare molte lavorazioni su superfici cilindriche. Ma cos'è il quarto asse? Il quarto asse è un qualcosa che ci consente di lavorare su superfici cilindriche, quindi riesco a tenere il taglio laser fermo, ruotare il mio corpo cilindrico al di sotto e fare incisioni che seguono la circonferenza, che altrimenti sarebbe impossibile perché dovrei girare con laser intorno alla circonferenza. Quindi stiamo andando a mixare due cose, in questo caso il corpo che dobbiamo tagliare o incidere non è sempre fermo come prima che mi muovevo in 2D al di sopra della lamiera o al di sopra del legno che andavo a tagliare o incidere. In questo caso la testina si muove solo in una direzione e intanto sotto il corpo gli ruota. Ma che tipo di quarto asse ci sono? Due tipi, vediamoli. Quello che vediamo qui da noi è un quarto asse a rulli. I due neri sono due rulli motrici, motrici nel senso che c'è un motore passo passo che al posto di muovere l'asse Y muove i rulli. Quello che vedete sotto è un esempio di prova di un legno diametro 20 mm che viene messo in rotazione dai rulli. Qual è invece l'altro tipo? L'altro tipo è un quarto asse a mandrino. Il quarto asse a mandrino è come se fosse il mandrino di un intorno che va a ferrare il pezzo e ruota esattamente sul suo asse. Non ci sono due rulli che lo fanno ruotare al di sopra dei rulli motrici, il pezzo che dobbiamo andare a incidere, ma ci muoviamo concentricamente l'asse nel mandrino. Che vantaggi e svantaggi abbiamo? Con quello a rulli abbiamo minore rigidità perché abbiamo il pezzo appoggiato sopra per attrito, ma abbiamo il grandissimo vantaggio di poter lavorare tubi e tondi di dimensioni molto diverse. Possiamo montare anche tondi di dimensioni fino a 200 mm che non abbiamo nessun problema, mentre nel momento in cui utilizziamo un quarto asse a mandrino abbiamo il vincolo di quanto diametro riescono a prendere le griffe. Ma adesso vediamo in opera come lavora. come avete visto sarebbe stato impossibile effettuare le griffe. Come avete visto sarebbe stato effettuare una lavorazione del genere senza mettere in rotazione questo corpo cilindrico? Anche perché se lo guardiamo da sopra la distanza del laser sarebbe continuata a cambiare dal punto di massimo al punto di minimo, quindi non veniva un'immagine pulita anche se avessimo provato a lavorarlo in 2D. Ma come bisogna fare per poter montare un quarto asse? La prima cosa è sollevare quello che è tutto il telaio della macchina. Infatti insieme al quarto asse vengono forniti dei piedini distanziatori che sono montati a filetto. Semplicemente è necessario avvitarli in modo da creare una distanza maggiore. La distanza maggiore serve a lasciare lo spazio necessario per inserire quello che è il volume che occupa il quarto asse più la dimensione del cilindro che andremo a lavorare sul quarto asse. Ma poi dobbiamo fare un'altra cosa. Chi è che dà la movimentazione del quarto asse? La movimentazione del quarto asse la dà quello che è l'asse Y. Cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a scollegare l'asse Y, quindi il movimento in questa direzione del laser sarà morto. Ma perché sarà morto? Perché non ci serve più. Perché noi il laser ci serve solo che si muove per così, la testina, mentre per così ci pensano i rulli a muoversi. E quindi cosa succede? Il movimento che prima faceva l'asse Y adesso lo fanno i rulli. L'abbiamo scollegato dal motore passo passo dell'asse Y e l'abbiamo collegato col cavetto in dotazione al motore del quarto asse. Ovviamente dobbiamo dare anche un'informazione alla macchina. Quindi questa informazione dove gliela diamo? Gliela diamo attraverso il programma CAM dove gli andiamo a spuntare l'abilita rotazione. In questo caso lui sa che invece che andare a movimentare l'asse Y sta andando a movimentare l'asse di rotazione. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che sia risultato interessante. Se avete qualche informazione in più da aggiungere o qualche curiosità da chiedere scrivetelo nei commenti qui sotto. Invece se siete interessati all'acquisto di una macchina di questo tipo qui in descrizione vi lasciamo sia il link di acquisto ma anche un codice sconto che potete utilizzare per prendere una scontistica rispetto al prezzo di listino. Ah non dimenticarti se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto che per te è gratis ma ti tiene anche aggiornato su tutti i nostri nuovi video che pubblicheremo. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Se un contenuto come questo ti è piaciuto scrivici anche questo nei commenti così sapremo se fare contenuti simili. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.